Un albero piegato dal peso della neve si è schiantato sulla strada provinciale che collega Clusone Piario lungo il rettilineo poco prima dell'ospedale Antonio Locatelli, colpendo un'automobile in transito. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. L'Alfa Romeo 147, condotta da un uomo di rovette di 46 anni con a bordo la madre di 84 anni, è stata colpita sul cofano e il parabrezza. Tanta paura quindi per le due persone a bordo che se la sono vista davvero brutta. Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia provinciale, i colleghi di Clusone, i vigili del fuoco del vicino di staccamento, i tecnici dei comuni di Piario e Clusone. Nungo la strada, durante il pomeriggio, sono stati tagliati altri cinque abeti giudicati troppo instabili e pericolosi. Nello stesso momento che stavo passando è venuta giù la pianta all'improvviso. A bordo lei e sua madre? Io e mia mamma, sì. Fortunatamente in Colome? In Colome, sì. Se la prendevamo un po' più avanti eravamo morti tutti e due. Quindi tanto spavento quindi. Quanto altronde. Ecco, qui abbiamo quindi la vettura molto danneggiata. Infatti adesso sto un po' aspettando a vedere chi viene e che cosa devo fare, perché abbiamo telefonato i vigili e così, vediamo un po' se riusciamo a risolvere la situazione. Quindi poi si è trovato questa pianta che l'è cascata praticamente sul cofano della vettura. Sì, sì, è venuta proprio giù. La macchina va ancora? Solo danni alla carrozzeria, spero. Danni alla carrozzeria perché l'abbiamo presa proprio in parte. Se la prendevamo in pieno, nel tronco pieno, eravamo morti tutti e due. E con lei stava andando piano? Sì, sì, ormai, vuoi che corri qua? A 30 all'ora.